amici di quarta parete buonasera mi sono trasferito al teatro 2 qui in vicolo due pecelli 37 e ritrovo due vecchie conoscenze insomma ci siamo visti un paio di giorni fa giovanni arezzo buonasera e alice sgroi buonasera dopo insomma la trionfale tre giorni del dei serbi eccoci qua con un altro spettacolo ovvero con i girasoli qui al teatro 2 un testo scritto appunto da entrambi un lavoro a quattro mani insomma e questo giro soli e che tu interpreti e tu dirigi insomma per la sera decantate suonata speriamo di nuovo questo in realtà equamente equamente insomma allora una storia giovanni di grande solitudine di sofferenza no di questa attrice ormai avanti con gli anni insomma questa disperazione immanente sì è la storia di questa donna che fa l'attrice lavora in teatro e soffre di depressione in realtà questa è una storia che parla di depressione di psicopatologie che è un campo dell'umano che mi interessa molto e niente noi raccontiamo questa storia partendo da un presupposto che è una storia d'amore finita che questa sarà con una donna e il nostro spettacolo inizia con Sara che legge per la prima volta una lettera che ha ricevuto una lettera di questa sua compagna che è una lettera d'amore ma in realtà una lettera di non amore perché all'interno di questa lettera viene detto in più o meno ambiguamente che questa storia non avrà chissà quale futuro Sara reagisce male e decide di uccidersi per cui il nostro spettacolo comincia con il suicidio di Sara che però con suo è una non morte è una non morte perché con in primissi con sua grande sorpresa si ritrova viva ancora le batte il cuore le scorre il sangue nelle vene le fa male la testa formicoli alle gambe agli stessi desideri che aveva da viva vuole fumare vuole fare l'amore quindi non capisce come è possibile assolutamente ed è lì proprio per questo perché lei è certa di essersi uccisa effettivamente si è uccisa però è in questo limbo all'interno del quale è costretta a fare i conti con i suoi fantasmi con il suo passato con i suoi ricordi e probabilmente perché c'è ancora qualcosa da risolvere dentro se stessa e quindi questo viaggio in questo non luogo servirà speriamo a Sara a risolvere quello che ha dentro di risolto un ruolo complicato no cioè voglio dire ruolo di una non morte stare in un luogo e avere ancora a che fare con tutte queste situazioni risolte della propria vita lì c'è sì è un ruolo complicato in un luogo complicato che tra l'altro è veramente uno spazio immaginario ma veramente ristretto come se fosse una grande gabbia dalla quale lei poi riuscirà a liberarsi ecco è che io non mi voglio fare vedere perché sono struccata dicevo lei risolverà poi solo con un'idea finale che la porterà assolutamente no altrimenti altrimenti dovete pagare il biglietto per vedere l'intervista invece qual è stata la difficoltà principale ad affrontare questo personaggio così pieno di sfaccettature tutti i ruoli sono difficili a teatro sicuramente rendere come ho già detto in qualche intervista rendere restituire ogni sfumatura del personaggio perché a volte riesce a passare solo il bianco il nero no invece il bello del teatro riuscire a far passare le sfumature quello il lavoro dell'attore e per riuscire a farle passare devono prima appartenerti e quindi esatto e quindi insomma è questa la difficoltà però insomma speriamo di esserci riusciti giovanni a volte dare tanto amore nasconde fondamentalmente la voglia di ricevere amore no beh sì ma io credo che la voglia di ricevere amore sia atavica chiunque ha tanta voglia di ricevere amore chiunque ha anche tanta voglia di darne credo soltanto che non si decide a chi dare amore da chi riceverne per cui questa cosa a volte manda in tilt il sistema manda sì assolutamente bene allora io dall'otto quindi da domani sera ore 21 fino a domenica 10 ore 18 ragazzi ore 18 qui a teatro 2 vicolo di due maicelli 37 sul palco alice sgroi dietro il palco per così dire o davanti insomma al palco in regia in regia giovanni arezzo un testo scritto da entrambi con di giovanni arezzo alice sgroi e poi dobbiamo citare anche tutti i vostri collaboratori quindi che abbella cartabiano l'assistante della regia la direzione luce di carmelo lombardo i costumi di grazia cassetti c'è anche una voce registrata quella di claudia fichera e il progetto grafico di media grazia marano progetto fotografico tutti sti progetti gianluigi primaverile la produzione del tattato mobili di catania sì sì certo quando fai monologhi sembra sempre che ci sia soltanto una persona invece qui sì 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 io e alice siamo i più esposti perché lei lo recita io lo dirigo però in realtà senza il team di professionisti straordinari che hai nominato in questo spettacolo non esisterebbe allora giovanni complimenti auguri in bocca al lupo viva il lupo sempre giovanni alle prossime molto insomma non non fa tanto no 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 assolutamente ormai devo vederti almeno una volta ogni due settimane se non sono contento concetto tu lo sai qui tra l'altro qui tra l'altro non vedo l'ora non vedo l'ora questo anteprima sì 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 buon teatro ragazzi grazie buon teatro a tutti vi aspettiamo grazie a tutti